Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Sono Fabrizio. Oggi vi parlerò e recensierò un prodotto di una marca spagnola che si chiama Hey Joe, che è specializzata in prodotti da barba, quindi odio da barba, balsami, saponi da barba eccetera. E più in particolare di questa confezione Absolute Pack, che nella base l'idea mi era piaciuta, perché in pratica vi permette di provare i loro sette oli da barba con fraganze diverse, in una confezione molto simpatica, con 7 bottiglie, ecco qua, 7 bottiglie di te, diciamo, flacconcini di vetro, con suono di vetro, e ognuna delle quali con una pipetta, come quelle si usano nei flacconi normali, poi, diciamo, in versione miniatura. Quindi sono sette flaconcini da 3 ml, quindi diciamo il prezzo è un po' caro, ho un po' esitato a comprarlo, perché diciamo parliamo di un totale di 21 ml e per un prezzo di 40 euro, quindi insomma non è per niente regalato. Però, siccome la marca mi ispirava, perché puntano anche il loro marketing sulla particolarità delle loro fraganze, dei loro profumi, mi sono detto che era una buona occasione di comprarlo, di provarle, e quello che mi sarebbe piaciuto di più, avrei poi comprato magari la gamma intera, balsamo, olio, eccetera. E invece no, perché mi ha profondamente deluso. Allora, ho scritto qui, in grosso modo, gli oli essenziali, o comunque le fraganze principali che si ritrova in ognuno di questi oli. E ve li ho ancora adesso, scusatemi se leggo un pochino. Allora, il primo, che si chiama Classic Joe, dovrebbe essere aromatizzato con lavanda. Il secondo, Red Mandarin, boh, già il nome penso che parli da sé, dovrebbe contenere olio essenziale di mandarina. Il terzo, Acid Melon, da qui abbastanza comprensivo, aromatizzato con profumo di melone con note di licci. Boh, qui parliamo già di profumo e non di olio essenziale. Il quarto, Philwood, olio essenziale di cedro e ginepro. Il quinto, Sweet Ciuffa, olio extravergine di cipero o cipero, non so, che è una pianta ribaccia che si trova soprattutto a Valencia, più olio essenziale di limone e cannella. Il terzo, Citric Forest, o forse Citric Forest, olio essenziale di pino e limone. E il terzo, e l'ultimo, sono state per finire, l'ultimo, Fresh Mint, anche abbastanza chiaro, olio essenziale di menta e pino. Ecco, il problema è che io in casa sono abituato a vivere tra gli oli essenziali. La mia compagna da anni produce le nostre creme per il corpo, per il viso, per le mani. E quindi abbiamo sempre olio essenziale in casa. Uno degli essenziali che usiamo di più è quello di lavanda, per esempio. Poi abbiamo anche il sandro, che usiamo regolarmente, e tanti altri. La mandarina anche. E prendete olio essenziale di menta, ne mettete qualche goccia in un flacone da cinquanta o cento millilitri e vi profuma davvero tanto. Qui il problema, appena aperto, sentite la fragranza. Io ho usato per ogni di questo olio, ne ho usate dieci, una decina di gocce che ho ben spalmato massaggiando la mia barba. Il risultato è che dopo due minuti e tre non avevo più nessuna profumazione, non sentivo più niente, niente. L'unico che ha resistito un po' varie ore è il Latid Melon, quindi il terzo. Poi forse perché era più artificiale dei sette, non so. Il problema è che dopo mezz'ora che ce l'avevo, la profumazione del profumo ha cominciato a cambiare e alla fine le ultime ore era piuttosto sgradibile. Tant'è vero che mi sono poi lavato la barba perché non era più un profumo, era un odore. Quindi alla fine, diciamo, per un prodotto che punta sulla loro varietà di fragranze, sulla originità delle fragranze, sono veramente rimasto deluso e ovvio che non comprerò nessun altro prodotto di questa marca, tant'è vero che poi è un prodotto che costa abbastanza caro. Diciamo che l'olio, se non poi volesse comprare l'olio essenziale, è una data che avesse scelto quello che gli piace, sono anche i flaconi da 30 millilitri, i flaconi da 30 mililitri costano più o meno sui 15-17 euro, quindi un prezzo già relativamente alto e a quel prezzo, farò altre recensioni su altri oli di altre marche, a quel prezzo c'è una bella scelta per degli oli veramente validi che profumano quello che promettono di profumare e questo. Quindi mi dispiace ma ecco non mi sento, ovvio io non ricomperò prodotti di questa marca e non me la sento di consigliarla perché a questo prezzo sicuramente esiste molto di meglio. Grazie a tutti per avermi seguito, vi auguro una buona settimana e a presto, ciao ciao!